Anche se talvolta non ce ne rendiamo conto, noi viviamo la nostra vita insieme agli altri animali con cui condividiamo l'appartenenza allo stesso regno. Non siamo mai indifferenti di fronte a loro. Chi di noi non si commuove di fronte a un cucciolo o a un animale che soffre o un animale che sta con difficoltà raggiungendo il cibo? Questi sentimenti che proviamo sono molto frequenti soprattutto tra i bambini. Un insegnante quindi avrà molta facilità a proporre lo studio della biologia attraverso questo argomento. Il modo con cui gli animali vivono, crescono, si riproducono, trovano il cibo è il risultato di una lunghissima selezione naturale che ha portato tra le altre cose a questa straordinaria biodiversità che presentano. È proprio questo concetto biologico che gli insegnanti devono tenere presente quando parlano di animali con i propri allievi. Il MOC utilizza prevalentemente risorse multimediali. Questo per mostrare la dinamicità dei comportamenti e delle strutture che presentano gli animali. Io l'ho suddiviso in tre parti. Nella prima tratterò alcuni aspetti della biologia, della struttura e di come si possono raggruppare gli animali stessi. Nella seconda parte proporrò invece delle attività sugli animali svolte in classi di scuola dell'infanzia, in scuola primaria e in gruppi di insegnanti in formazione. Nella terza parte descriverò quelli che ho definito biointrecci e cioè il riferimento ad alcune tematiche trasversali della biologia che partendo da un animale arrivano a collegarlo con altri organismi viventi. In questa sezione il soggetto principale sarà quindi la vita stessa e la sua straordinaria capacità di sorprenderci quando la studiamo. La conoscenza degli animali è inoltre un aspetto molto utile per la conoscenza del nostro corpo, per come svolge le sue funzioni, per la dinamicità delle sue strutture e come sia possibile attraverso questa conoscenza proteggerlo e rispettarlo. Avvicinarsi agli animali può quindi modificare il nostro modo di pensare e di guardare il mondo.